Quanti tipi ce ne sono? Di epilessia ce ne sono tanti tipi, tant'è che si dice epilessia e non epilessia. Nel 2017 lì lei ha prodotto, ha pubblicato una nuova classificazione per l'epilessia, anche per rendere più comprensibili alcuni termini per i pazienti. Innanzitutto le epilessie vengono distinte in due grossi gruppi. Le epilessie focali, cioè quando questi neuroni pre-eccitabili prendono un'area circoscritta del cervello dalle generalizzate. Nelle epilessie generalizzate invece si ha il coinvolgimento simultaneo e bilaterale di una zona, di zone più vaste dell'encefalo. Tra le epilessie focali vanno distinte quelle con conservazione della consapevolezza da quelle che non hanno conservazione di consapevolezza. Che cos'è questa consapevolezza? È la capacità che ha il paziente di ricordare ciò che è successo durante la crisi, di poterlo descrivere e di poter interagire con gli altri. Se questo è presente si dicono crisi focali a consapevolezza conservata. Diversamente si parlerà di crisi focali a coscienza alterata. Le crisi focali vengono poi suddivise in crisi focali motorie e non motorie a seconda se all'esordio della crisi vi siano o meno sintomi motori. Le crisi focali possono coinvolgere secondariamente un'area più vasta dell'encefalo e vengono dette bilaterali tonico-cloniche, quelle che un tempo venivano dette parziali a secondaria generalizzazione. Tra le crisi generalizzate anche queste ci sono quelle motorie e quelle non motorie. Tra quelle motorie, quella che conosciamo tutti, la crisi di grande male in cui il paziente sappiamo emette un urlo, cade a terra fra le scosse tonico-cloniche dove c'è una compromissione totale della coscienza. E poi ci sono quelle non motorie che sono le assenze, quelle dei bambini per capirci che si incantano, che non hanno coscienza per un breve periodo ma tendenzialmente non cadono a terra. Anche tra le varie crisi possono esserci quelle che non riusciamo a classificare perché dal racconto che ce ne fanno i testimoni dell'accaduto ai pazienti non riusciamo a definire se le crisi siano focali o generalizzate e in questo caso le classifichiamo come sconosciute e anche qui con sintomi motori o meno.